Buongiorno ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia nei prossimi giorni, quando a partire da questi istanti una forte perturbazione proveniente dal nord Europa dovrebbe entrare sul centro e sul nord Italia ecco che infatti avremo a partire da domani l'arrivo di piogge, rovesci temporaleschi sparsi e molto intensi su tutto il nord e su buona parte del centro esclusa fortunatamente dopo tutti gli alluvioni l'Emilia Romagna e le piogge insisteranno soprattutto anche su parte del sud in particolar modo tra Calabria, Basilicata e Sicilia e soprattutto sul Piemonte occidentale e settentrionale, proprio sul Piemonte occidentale e settentrionale avremo la possibilità di forti nubi fragili, possibili alluvioni lampo con accumuli fino a 40-50 mm per ogni ora quindi pioggia davvero fortissima